Un saluto a tutti ragazzi, benvenuti e bentornati sul mio canale da Michele e ben ritrovati per questo nuovo appuntamento con il Mazinga Z uscita numero 87, delle 100 previste per il completamento di questa meraviglia delle meraviglie, da un'idea di Gonagai edizione a scette, ecco qui un robot meraviglioso, altezza 75 centimetri, completo del centro ricerche foto atomiche e di tanti altri accessori e armi, oltre ai dottori, al Jetskander, oltre al Jetskander ovviamente di Kojikabuto, abbiamo tante tante cose in più e volevo anche dirvi che la base espositiva è alta, qui 92 centimetri, veramente ci vuole una vetrina. Beati quelli che hanno lo spazio! Io l'ho voluto fare perché non ci avrei mai pensato neanche minimamente a non farlo, ovviamente se si hanno le possibilità si si leva qualcosa, almeno questo è stato il mio caso, per dedicarsi a questo. diversamente, ecco, se uno non può farlo non lo fa, ci mancherebbe, non è una priorità. Qua abbiamo l'undicesima parte di montaggio della base espositiva, la testa, andiamo a montare la testa, e la centralina toracica perché non c'è solo quella. Trovo l'ultimo pezzo da mettere qui sul fianco della base, ecco, e trovo altri due elementi per completare anche questo, quindi due elementi così. La centralina elettronica è qui, eccola. Intanto ringrazio tutti i miei iscritti, tutte le persone che mi visualizzano, grazie ragazzi di continuare a contribuire a dar vita al canale, ringrazio i miei abbonati che in maniera economica sostengono questo canale, grazie ragazzi. Se avete piacere iscrivetevi, attivate la campanella, sarete così aggiornati su ogni mio nuovo video pubblicato. Date anche un'occhiata alla playlist dove potrete trovare altri modelli e non soltanto di robot. E infine, qualora ci fosse qualcuno interessato al montaggio del proprio modello, mi contatti privatamente, grazie. Vedete, non è null'altro che un ripetersi del montaggio precedente, fatta eccezione per questo, che è dove andremo a montare io insieme a voi, perché mi seguite, siete parte integrante del canale, ecco perché spesso e volentieri uso questa forma di espressione plurale, andiamo a montare. Uno potrebbe dire, ed è anche lecito, Michele lo stai montando te, mica io, però per quello che vi ho appena detto, io uso questo modo di esprimermi. Poi ho le viti per fissare la testa a brugola già con il suo frenafiletti, le rondelle in acciaio e due serie di viti, queste coniche che vado ad usare per montare gli altri due pezzi come questo e infine invece queste qui, che sono non coniche, che vado ad usarle, vediamo subito, allora... vado ad usarle qui sulla centralina elettronica, qua. Allora, la prima cosa che ci dicono di fare è, è di montare gli altri due pezzi qui delle griglie, però io vado a montarmi prima di tutto questo pezzo qua, così posso spostare la base e fare un video meno pessimo, ecco non dico più decente, meno pessimo. Allora, prendo questo, adesso vi faccio vedere, state tranquilli, così... qui abbiamo la parte zirinata... lo inserisco, mi ha certo che sia inserito anche da quest'altra parte, altrimenti quando andrò a fare questo che andrò a fare adesso, romperò questa parte qui e poi faccio questo qua, semplicemente questo lavoro... ecco un po'... bene... ecco qui, spunta tanto di qua quanto da quest'altra parte... ora... giro al contrario la base... piano piano... ecco qui... è gigantesca ragazzi... ok... questa la metto così... perfetto... ecco qui... devo mettere poi questo... vedete... chiaramente non posso metterlo così perché il taglio non andrebbe sul sul perno... quindi viene da sé la posizione corretta... eccolo qui... ed è questa... bene... adesso con due viti... le 87 15 che sono queste qui... queste... 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 guardate ragazzi questa base espositiva cos'è ve la voglio misurare dovrei avere il metro a portata di mano vediamo abbiamo la parte più alta qui che è circa 53 cm sotto è più larga ancora infatti siamo a 58 cm qua abbiamo 42 cm e nella parte più larga sotto 51 cm l'altezza è 8 cm e mezzo enorme qui come potete vedere anche se avete visto sicuramente nella foto di copertina che c'è la scritta mazinga z l'ho solo appoggiata perché la metterò alla fine quando non dovrò più maneggiare nulla per evitare che accidentalmente io possa ortare questa bellissima piastrina e di conseguenza possa andare navigare mi dispiacerebbe e voglio evitarlo ecco perché non l'ho messa adesso credo che questa la posso spostare con un'occhiata ma credo di sì sì questa la posso anche spostare bene adesso prendo la prima torre che abbiamo montato quindi quella di destra ricordatevi che va vista da dietro la base e dovrò usare questo pezzo qui con questi due segmenti che vedete qua sotto vedete questi laterali i perni li avete dappertutto perché c'è dappertutto sia su questo che su quest'altro perché sono quelli che poi serviranno a far incastrare il lampeggiante all'interno per tenerlo fermo però allora questo va qui ma ve ne accorgete se sbagliate a meno che voi non insistiate fino a romperlo perché vedete questo che va qui entra subito correttamente vedete se sbagliate mettete l'altro non entra aspettate che è così non entra o così vedete non entra se io faccio entrare qui non entra da questa parte quindi attenzione a non insistere allora prendo questi due pezzi ok devo far entrare il led qua dentro così proprio così ecco qua non serve neanche incollare questo pezzo sicuramente dovremmo incollare quest'altro questo qua sicuramente andrà incollato poi prendo questo e lo vado a mettere così ecco ok e vado semplicemente a inserire questo però prima di farlo questo va messo così perfetto quindi metto il mio lampeggiante all'interno che bello ragazzi che lavoro che ha fatto a scelta qua pazzesco premo deve inserirsi e deve inserirsi la parte rossa nei due perni all'interno altrimenti non va bene quando sarete certi che inserita quando questa parte qui sarà a filo e non sporgerà ancora fuori altrimenti quando andrete a mettere il pezzo non riuscirete a farlo entrare tutti infatti qui ancora devo inserirla un po quindi metto la pausa spingo finché si inserisce e poi andrò a mettere avete visto che la lunghezza è praticamente è ottima andava addirittura un centimetro più corto ma basta fare così senza rompere nulla vedete ecco vedete forse riesco anche premendo così a farlo entrare ma non basta ancora perché scusatemi perché vedete che ancora tocca perché non si è inserito ancora correttamente e va fatto poi soprattutto attenzione a non pizzicare i fili qua sotto anzi forse il problema era solo quello vediamo un po se adesso va va già meglio ma deve entrare ancora bene dentro quindi attenzione io lo giro su se stesso e questo dovrebbe aiutarmi a far entrare il filo perfettamente dentro il foro comunque non basta ancora guardate perché deve ancora entrare questo lampeggiante dentro i due perni quindi metto pausa e ci vediamo dopo guardate ragazzi il problema è anche questo per quanto andiate a inserire almeno nel mio caso ho la plastica questa all'interno che non è perfettamente a filo ma sporge un po fuori ho fatto tutte le prove possibili quindi sono andato a inserire anche prima solo questo fino in fondo ma non basta quindi adesso io vado appena appena a consumarmi qua dietro questa plastica perché come vi ho detto deve essere perfettamente a filo non più in dentro attenzione altrimenti questo vi cade giù deve essere perfettamente a filo e poi posso andare a incollare i tre perni qui ok ecco fatto sono andato a consumarmi la plastica qua sotto non mettete alcuna colla come vi dicono loro di fare perché non serve a niente metterla colla invece servirà poi mettere la colla su questi tre perni alla fine perché sarà tutto questo che terrà in posizione perfetta il pezzo quindi adesso rimetto il led qui è come un'officina eh ragazzi non vi dovete scoraggiare e ne dovete montare le cose così tanto per perché poi gli errori ve li portate avanti e non sono assolutamente belli queste sono piccole pezze che insomma uno le guarda e interviene cosa sto facendo così ovviamente il led deve essere preso sul bordino inferiore dentro questo in taglio è mi raccomando non deve poter andare né su né giù alla fine così metto questo vedete non serve assolutamente incollarlo e poi adesso proviamo guardate ovviamente sempre i perni che siano nella posizione corretta per poterli inserire ecco qui voilà la lunghezza è non dico perfetta ma va molto bene perché non la tirate più eh ve l'ho detto il filo dovete poi staccarlo tutto da ogni segmento che ve lo tiene ecco avete visto così è perfetto una volta messa la colla qui non serve mettere alcun altra colla all'interno io poi lo farò dopo chiaramente vi ho fatto vedere il montaggio mentre invece nell'altra torre non posso farlo perché se vi ricordate mi hanno dato due pezzi uguali e quindi non l'ho completata devo solo mettere l'ultimo pezzo sopra di battuta ho chiesto già che mi venga spedito il pezzo e attendo che mi arrivi mi hanno anche risposto quindi non ci sono problemi a questo punto vado avanti con questo quindi prendo uno di questi così devo metterlo attenzione per il disegno vi ricordate cosa avevo detto prima a salire devo andarlo a mettere come questa uguale quindi da questa parte per chi magari non mi ha seguito poi vi farò vedere cosa vi sto dicendo vi farò capire ecco qua adesso vi spiego guardate questa è la posizione corretta guardate questi sono tutte vi ma se io la metto così è sbagliato perché le vi vanno al contrario l'ho montato uguale ma è sbagliato quindi fate attenzione ve l'ho fatto vedere anche nel montaggio precedente quindi è importante sapere che questo pezzo va messo da questa parte e non da questa altrimenti poi l'ho montata al contrario e vi trovate il disegno asimmetrico che è sbagliato quindi abbiamo detto così il pezzo va montato proprio così metto le viti coniche le stesse viti che abbiamo usato dall'inizio della prima torre se avete piacere di darmi un'ulteriore mano d'aiuto oltre a guardare il mio canale e iscrivervi condividete i miei video nei gruppi dedicati ragazzi a voi costa nulla e a me sicuramente una mano me la dà ok va benissimo tutto adesso devo andare semplicemente a mettere questo così ok vedete così è uguale è così che sarebbe sbagliato va bene ci vediamo dopo assemblo sto pezzo qui con le altre quattro viti bene questo adesso lo metto qui quindi Grazie. E sono rimasto un po' indietro con i video ma qualcuno ho spiegato la motivazione comunque di carattere familiare e purtroppo la mamma che non sta bene è chiaramente la mia priorità neanche a dirlo. E ovviamente lei. Allora poi. Questo pezzo qui anche qui devo guardare il disegno prima di farlo perché se lo metto così lo stesso discorso di prima è sbagliato. Quindi questo va messo così ragion per la quale questo pezzo va messo in questa maniera. Allora. Allora. Io veramente sono super entusiasta di questa collezione. Temo che nella prossima edizione Ascette si riserverà di aumentare le uscite però è sbagliato perché con questi costi di produzione ci stanno. Ma mettere 20, 30, 40 uscite più. Ragazzi ma 40 uscite più a 13 euro l'una? Sono 400, 520 euro. E sono 520 euro in più eh. Non è che passiamo. Parliamo di bruscolini qui eh. Allora adesso attacco questa qui e ci vediamo dopo. Ecco qui e adesso qua ci dicono di fare attenzione vedete qui a pagina 7 in questo riquadro di fare attenzione perché questo altro pezzo deve essere montato nella stessa direzione di quello che abbiamo qua sulla parte in questo caso sinistra. Ok? Quindi così. Adesso lo vado ad avvitare e abbiate pazienza ma lo faccio per voi per fare i video meno lunghi. Ci vediamo dopo. Ed ecco che ho terminato anche questa parte. Le due plastiche sono rivolte verso il basso. Va benissimo così. Vedete? Sono andato semplicemente a girarmi i due finali dall'altra parte ma perché ho voluto seguire per filo e per segno il disegno che c'è qui. Vedete? Queste due parti verso il basso e lo avevamo già visto prima. Però abbiamo anche il traliccio che parte qua e sale. E qui sale. Quindi ecco. Questo è stato montato. Questo fa parte dell'altra torre ma l'abbiamo già messo prima. E adesso passiamo alla scheda elettronica. Quindi questo pezzo. La centralina. Eccola qui. Questo mi dice di metterlo così. E questo mi dice di metterlo così. Perfetto. E adesso due viti. Due viti. Ah scusate. Due viti. Quattro viti di queste. Abbiamo ricevuto due serie di viti piccole. Quindi non ci possiamo sbagliare perché le altre la terza serie di viti con le rondelle è a brugola e non ci si può come ho detto poco fa sbagliare. Ok. 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 quando arrivate in battuta fermatevi non serve stringere ulteriormente ecco qui questa è un po lenta guardate che la scheda tocchi sotto la parte grigia e siete a posto adesso prendiamo la testa che bella ragazzi per non parlare del jet filter con cosi che ha avuto all'interno mi raccomando e mi auguro che vi siate incollati come vi ho sempre detto durante il montaggio i fanalini e i pezzettini perché rischiate di perderli allora adesso devo andare a montare la testa e la centralina sulla struttura del mazinga z quindi e come faccio vediamo bene allora prendo la centralina devo semplicemente inserirla così farò andare giù ok stavo guardando ah ecco rimane così proprio staccata qui perché va a battere dietro la plastica dietro qua sopra quindi è corretto così guardate ecco ecco deve rimanere questo spazio qui è corretto così poi in una posizione un po più comoda prendo queste due e devo metterle così perché mi terranno la testa che dovrò andare ad avvitare da sotto con le mie viti a brugola e le rondelle ecco qua quindi me ne metto prima una di qua ecco qua ecco qua ecco qua perché dovrei riuscire, credo, a inserirla così ugualmente prima di stringere, sì. Ok, quindi adesso, ecco qui. Faccio la stessa cosa dall'altra parte, rondella, vite, e stringo. Sì, mi sembra abbastanza rigida, altrimenti si poteva anche spessolare, ma non serve. Stringete forte! Così. Bene. A questo punto il montaggio è terminato, perché poi abbiamo il nostro splendido... guardate che meraviglia! Che bello! Che opera d'arte, ragazzi! Adesso io volevo farvi vedere una cosa. Sono arrivato non al limite di più. Questo poi va messo così. Guardate il cubo box. E infatti, va bene, adesso c'è questo che batte un po', però è 80x80. Mi rimangono giusti cinque centimetri sopra, ma sono contro i led. ed ecco qua. Io direi che sono veramente contento. Lo so, lo ripeto, ma mi sento come un bambino. Sono un adulto, ma sono come un bambino, perché sono davvero contentissimo. Ragazzi, chi non lo è di voi che sta facendo questa collezione? Meravigliosa! Bene, io vi ringrazio del vostro preziosissimo tempo. Un abbraccio e un saluto a voi. Un saluto a tutti i vostri cari più cari. Grazie sempre di seguirmi. Ci vediamo nei prossimi video. Mi raccomando, eh! Ragazzi, iscrivetevi al canale. Ciao a tutti!